Ciao, amici mici! Siete pronti a scatenarvi insieme a noi? 44 Gatti arriva al cinema con nuovi episodi mai visti in tv! Ci saranno tante sorprese! E conosceremo un nuovo amico molto speciale! Il mio nome è Gatto Carlo e sono nato per fare il Gatto Presentatore! Io mi emoziono, il patatac mi viene il singhio! Questa è una baffemissione! Preparatevi a cantare e ballare tutti insieme! 44 Gatti, la seconda edizione, tante belle novità, una soprattutto, il Gatto Carlo! Sì! Sì! Vi aspettiamo! Il 12 e il 13 settembre solo nei Cinemaggiometti! Non mancate!